Allora Mauro, consulente finanziario e graffologo, studente del corso Pay Per Click per Impreditori che adesso è diventato Vitamina PPC e abbiamo appena concluso un ciclo di consulenze, volevo sentire la tua opinione, sentire come ti sei trovato con il corso e con le nostre consulenze. Allora diciamo che la prima domanda è come mi sono trovato con il marketing online, con tutto il discorso dei videocorsi, la promozione su internet, la costruzione di un videocorso, è complesso e quando ho iniziato a mettermi in questo percorso, perché innanzitutto non è un momento ma è un percorso, l'ho iniziato a fare da solo, quindi vedendo un po' da internet, vedendo le altre cose, un po' da autodidatta e sono letteralmente impazzito, mi ha consumato tante energie e anche incattivito, questa è la parola, termine giusto, proprio incattivito. Il miglioramento è stato quando ho avuto un'altra persona che mi ha affiancato, in realtà avevo già una persona che mi affiancava, però era assaltuario, quando invece ho avuto una persona che mi seguiva era già meglio, perché condividere in due è fondamentale. Però le competenze che aveva questa persona erano comunque limitate, cioè ok editing, ok per le immagini, ok per questo, però il marketing è qualcosa di continuo progressivo e di continuo cambiamento, per cui anche lei non era all'altezza di quello che noi potevamo fare. A questo punto è stato il passaggio, è stato determinante nel approcciarmi a un'ulteriore consulenza, quindi quello che mi viene da dire è fondamentale questa cosa qua, non è sufficiente appoggiarsi a una persona esperta in questo campo, perché c'è molto lavoro da fare anche dal punto di vista pratico e diventa anche costoso pensare di appoggiarsi completamente a un professionista per tutto il lavoro di questo tipo. Invece in due, quindi una persona che aiuta sulla parte grafica, sulla parte editing, Facebook, è già una base, va benissimo perché si lavora insieme e lei va avanti. Per la parte della strategia, quindi la parte marketing, per come ottimizzare Facebook, come ottimizzare tutto quanto il resto, è necessario invece avvalersi di una persona esterna. E per me, diciamo, la svolta è stata questa, che dall'incattivire è stato un passaggio a capire, capire, muoversi in passo dopo passo e gli ostacoli che prima erano praticamente delle montagne, dintravano invece delle cose che venivano bypassate o con la persona che appunto mi segue da vicino o assieme all'esperto. Quindi posso dire che queste lezioni, attenzione, mi sono dimenticato un passaggio importante, che per non stare troppo con l'esperto, perché chiaramente l'esperto non è che può stare lì ore e ore a raccontarti tutta la storia, o avevo acquistato il corso di Fabio Faccin e mi è piaciuto tantissimo perché è chiaro rispetto a tanti altri, è conseguenziale ed è sintetico, che per me, che sono operativo, è fondamentale. Per cui lavoro con i video, quindi prendo la consulenza dei video e non impegno troppo il professionista. Le cose principali le faccio con quest'altra persona e alla fine, quando ho esaurito le mie possibilità, faccio questi incontri ogni tanto con Fabio che sono fondamentali per fare la quadra. Per concludere, ho iniziato qui da solo, martire, a spingere rocce che erano quadrate, che erano il doppio di me. Adesso mi trovo in tre a spingere delle rocce che piano piano le abbiamo fatte con scappello più tonde, e per cui la cosa procede. Perfetto, ti ringrazio Mauro, grazie per il tuo feedback e è un piacere collaborare con te. Stiamo accompagnando in questo processo e ci auguriamo di farlo per molto tempo e di portarti soprattutto i risultati che stai facendo. Sì, adesso sto facendo su questa grafologia, adesso vedremo se magari più avanti potrò utilizzare queste cose anche per quello da consulente finanziario, quindi questo non so se tu hai un'esperienza di qualcuno. Guarda noi, ne parlavamo anche poco fa, abbiamo proprio anche dei percorsi proprio per i consulenti e in realtà il vantaggio anche di accedere a questi corsi, a queste consulenze, è che puoi applicare tutte queste competenze a vari business. Quindi se adesso noi stiamo lavorando principalmente su un progetto, però sono competenze, cioè capire come creare una strategia di promozione online, capire come creare campagne in Facebook, in Google, è qualcosa che poi adesso l'applichi al progetto attuale, ma poi puoi applicare a tutti gli altri progetti, per cui assolutamente sì, ti potrà sempre tornare utile queste informazioni.